Ciao, bentornato, sono Gian Massimo Usai e questa è l'analisi settimanale per Trend Positioning Research. Quindi nuovi massimi di mercato che però si sono sviluppati senza una conferma del bread market la scorsa settimana. Per chi non conoscesse il significato si intende con bread market il numero di titoli che partecipano al rialzo degli indici. Ora, generalmente un mercato che segna nuovi massimi senza la partecipazione di un numero sufficiente di titoli, come possiamo vedere in questo grafico, è sinonimo di un mercato debole, nonostante l'apparente forza. Ecco perché è sempre fondamentale per noi di Trend Positioning guardare dietro le quinte di quello che è il palcoscenico che tutti vedono, chiaramente. Quindi molto molto importante, vediamo che soltanto il 34% dei titoli è sopra la media a 50 periodi, ma soprattutto vediamo che c'è questo trend discendente per quanto riguarda questo numero, che quindi questo è il bread market, ma i mercati stanno continuando a salire. Nello specifico vediamo questo massimo intorno ai 14.803 per quanto riguarda il Nasdaq, vediamo che c'è stato un aumento con un nuovo massimo del Nasdaq, che in realtà questo trend ribassista per quanto riguarda il bread market. Quindi molto molto importante perché questa è comunque una situazione molto difficile e delicata. La scorsa settimana quelli che si sono permessi di distrarsi un attimo hanno perso l'ennesima opportunità di comprare in uno dei momenti migliori dell'anno, ma sicuramente anche più difficile ed è per questo che è importante avere una strategia. Quindi che dire, in realtà se stai cercando una spiegazione plausibile, ma magari anche accademica, passami il termine, per la violenta inversione al rialzo a seguito dell'altro tanto violento calo delle azioni durante la scorsa settimana, ciò che non dovresti fare in questa fase è guardare gli indicatori economici. Che tu ci creda o no, infatti gli algoritmi, come sai, imparano in fretta. E' proprio una delle loro caratteristiche. Quello che sembrano aver imparato negli ultimi 15-16 mesi è che la Fed, qualunque cosa dica di fare, non ridurrà il quantitative easing di fronte all'aumento delle infezioni da Covid. Quindi è molto semplice capire che di conseguenza sembra che continueremo a vedere forti discese, seguire da altrettanto forti risalite, almeno al momento. Quindi, detto questo, ci sono però alcuni sviluppi interessanti da considerare, come vedremo tra poco. Questo, infatti, è uno di quei mercati in cui è difficile evitare di possedere azioni e quindi uscire dal mercato a causa dei nuovi massimi, degli indici. Ma è anche uno di quei momenti in cui è necessario e bisogna essere molto selettivi e avversi al rischio. È uno di quei momenti dove probabilmente ripagherà avere questo atteggiamento. Forse prima ancora di considerare il potenziale guadagno, soprattutto se consideriamo che è vero che i settori più importanti, dal punto di vista growth, come il tecnologico, i servizi di comunicazione e i consumi discrezionali, si stanno spostando verso la leadership, come possiamo vedere anche in questo grafico. Ma è altrettanto vero che mancano setup di qualità, come vedremo tra poco. Quindi, come sempre, prima di passare alla nostra analisi, clicca il pulsante like qua sotto, iscriviti per ricevere gli aggiornamenti ogni settimana e per nuove analisi che ti permettono di essere in anticipo non rispetto al mercato, ma soprattutto rispetto a quello che vedono gli altri. Il proprio vantaggio è assolutamente questo. Andiamo a vedere anche che il numero di, e la percentuale di portafoglio investita per quanto riguarda i money manager è passata dal 93 al 71% durante l'ultima settimana e anche il numero di rialzisti per quanto riguarda i retailer, vediamo che è al minimo dalle ultime quattro settimane. Addirittura siamo finalmente sopra le medie. Quindi molto, molto importante per la prima volta. Probabilmente da 15 mesi il numero, la media di rialzisti è scesa sotto la media e la media dei rialzisti è risalita sopra la media, dello 0,1% ma comunque risalita. Quindi dato davvero fondamentale, dato davvero molto, molto importante perché in realtà è quando scorre il sangue nelle strade, come qualcuno dice, che ci sono le migliori opportunità. Ora, le migliori opportunità bisogna saperle cogliere. Quindi attenzione a questo Nasdaq che ha segnato appunto questi nuovi massimi nella giornata di venerdì, stiamo riandando, non siamo estesi in questa fase, stiamo riandando verso l'estensione rispetto alle medie principali, ma almeno in questo momento, da questo punto di vista, non c'è un pericolo imminente. Questo non vuol dire che ovviamente il mercato non possa ritracciare, però per quanto riguarda quelle che sono le probabilità e ciò che è tracciabile, al momento non ci sono particolari difficoltà. Andiamo a vedere alcuni dei titoli più interessanti della settimana. Questa volta ne abbiamo soltanto quattro, quindi questo è il punto che dicevamo poco fa. Quindi i titoli, i mercati stanno segnando nuovi massimi, ma mancano setup di qualità. I migliori titoli al momento li abbiamo già in portafoglio, quindi la mancanza di setup di qualità, nonostante i nuovi massimi, ci fa pensare che comunque la situazione sia ancora un po' pericolosa, soprattutto vista anche la mancanza di liquidità di questo periodo dovuto alle ferie estive. Quindi tra i titoli abbiamo Roku, che abbiamo segnalato anche nel gruppo Facebook gratuito la scorsa settimana, come un titolo che probabilmente ci avrebbe dato delle opportunità di aggiungere posizioni. Questo è un titolo che abbiamo in portafoglio da parecchie settimane, quindi abbiamo preso tutto questo rialzo, in realtà molto interessante, e nella giornata di venerdì abbiamo aggiunto ulteriori posizioni. Quindi il titolo ha appena rotto questa Handle, con un volume giornaliero superiore alla media, e quindi ha dato un'opportunità di ingresso. Noi addirittura l'abbiamo comprato anticipatamente leggendo questo potenziale di forza. Abbiamo ancora Sprout, che ha segnato questa cap, stavolta senza la Handle, e come spesso accade durante tutte queste basi, senza lo Shake Out, quindi senza buttare fuori le mani deboli, quindi quelle che si viene a formare la Handle, spesso capita che ci sia un ritracciamento di questo tipo laterale, a rimbalzare sulla base precedente, e poi dare nuovamente l'opportunità di ingresso. Quindi il titolo sicuramente è molto interessante anche da questo punto di vista, visto sia il settore tecnologico, sia i numeri dei fondamentali. Abbiamo poi Upwork, che in questo caso abbiamo un Double Bottom, che ha formato una Handle, in questo caso quindi c'è stato lo Shake Out, rimbalzo sulla media a 10 settimane, chiusura sopra la media a 10 settimane, quindi vediamo nelle giornate di inizio della scorsa settimana, questo rimbalzo sulla media a 50 periodi giornalieri, e quindi sulla media a 10, anche 10 settimane, i fondamentali sono molto interessanti, e vediamo che ora si è formata questa Cup with Handle, con la ruotura di questi livelli, e la chiusura sopra quei livelli, che ci daranno un'opportunità di entrare al mercato. E poi abbiamo ancora Freedom Holding, che come nel caso precedente ha formato un Double Bottom, che ha visto la rottura di questa neckline, debolezza del mercato, rotura di questi massimi, e nuovamente fase laterale, con un'eventuale opportunità di entrare al mercato, su questa Flat Base, che è in realtà una Base on Base, spiego che cosa sono le Base on Base nel mio corso Raptor, per il quale trovi il link qua sotto. Quindi dal punto di vista dei titoli, non c'è nulla di particolarmente interessante, ma come dicevo, ci sono dei risvolti molto interessanti, per quanto riguarda invece un indice in particolare, che è questo, l'indice Bolt, che segna il numero dei breakout, quindi il numero di quei titoli che stanno segnando dei breakout, quindi abbiamo due differenti metodi di ingresso al mercato, i breakout e i pullback, i breakout indicano assoluta forza, e finché questo indicatore non inizia a rompere questi livelli, ed è successo durante la settimana precedente, poi questi livelli, e poi segnare nuovi massimi, il mercato continuerà ad avere difficoltà. Quindi abbiamo avuto questo primo segnale molto interessante. Molto interessante in realtà anche la settimana per quanto riguarda R.S.P., che è l'indice che segna, che traccia l'andamento dell'S&P 500, ma pesando in maniera equa, quindi non dando maggior peso alle aziende più capitalizzate, ma dividendo equamente quelle che sono le azioni al suo interno, e questo per noi è molto interessante, perché crea un bilanciamento sui mercati, che ci fa capire che i mercati di per sé sono pronti a segnare nuovi massimi, e non che i nuovi massimi siano spinti, per esempio, dalle megacup, quindi parliamo di Tesla, di Google, di Microsoft, eccetera, perché il mercato ha non solo bisogno delle megacup, ma anche di tutto il resto. E questo è il motivo per cui vediamo degli shakeout molto forti in questa fase. Stessa cosa per quanto riguarda IWO, che è la parte del Russell che indica l'andamento dei titoli growth, che come vediamo però in realtà non è assolutamente in sotto performance rispetto ai titoli value. Quindi questo ci dice qualcosa di molto importante, ovvero che la lotta non è tra titoli value e tra titoli growth, ma probabilmente tra titoli megacup e titoli small cap. Sappiamo però che la crescita enorme in termini di portafoglio per il trader privato non è data dall'acquistare titoli come Apple, come Microsoft, come Google, ma da comprare aziende come Tesla, in realtà che sono in quel passaggio tra mid e megacup, e tutte quelle aziende che sono nel mezzo e che stanno crescendo, ed è per questo che si chiamano appunto growth. Quindi molto interessante questi quattro grafici che ci dicono ancora una volta, in realtà questo è un altro modo per cercare di capire che cosa sta succedendo dietro le quinte, senza, come dire, cascare al richiamo delle sirene di quelli che sono invece gli indici che segnano nuovi massimi e quindi ci fanno pensare che noi ci stiamo perdendo qualcosa e che abbiamo sbagliato in qualcosa. Andiamo a vedere poi infatti tutti gli indici principali, vediamo l'S&P che ha segnato nella parte in alto a sinistra, ha segnato nuovi massimi insieme al Nasdaq nella giornata di venerdì, molto interessante, il Nasdaq lo abbiamo già visto, abbiamo poi anche il Dow Jones, molto interessante come si sta comportando, vediamo che c'è questa fase laterale all'interno di questo rettangolo, quindi anche la rottura del Dow Jones sarà sicuramente interessante, e vediamo che in realtà il grafico in questo caso che ha più difficoltà è il Russell, abbiamo però visto in precedenza che questo non è dovuto tanto, perché i WM e il Russell e al suo interno in realtà ci sono i titoli growth e i titoli value, ma parliamo di small cap e questo conferma che in realtà il mercato in questa fase vede una lotta non tra titoli value e tra titoli growth, ma tra titoli mega cap e small e mid cap. Vediamo infatti che il titolo IWM, che è l'ETF che replica l'allandamento del Russell, il quale ha al suo interno le small cap, è il titolo e l'indice, l'ETF chiamiamolo nel modo corretto, che sta avendo più difficoltà. Quindi questo per chiudere è per dire che cosa, che sarà molto importante appunto, molto concentrati cercando di capire se il mercato ci dirà di uscire totalmente oppure di rimanere a mercato ma essendo cauti. 0% o 100% tutte le volte non è mai la soluzione ideale, ci sono dei momenti dove bisogna essere investiti al 100%, ci sono dei momenti dove bisogna essere investiti allo 0%, quindi essere totalmente cash, ma non esiste mai la situazione dove bisogna essere totalmente cash o totalmente investiti, perché essere totalmente investiti significa in realtà prendere le batoste più grandi, perché le giornate più negative arrivano quando i mercati, quindi l'S&P, il Nasdaq, il Dow, si trovano sotto la media a 200 periodi, quindi essere a mercato quando i mercati principali sono sotto la media a 200 periodi è un errore veramente stupido e banale, ok? Quindi mi raccomando analizza sempre tutto quello che vedi in questo video, non sono consigli di investimento ma semplicemente a scopo didattico, come sempre fai le tue ricerche e se vuoi sapere di più hai tutti i link a disposizione qua sotto per capire che cosa facciamo dietro le quinte. Questo è il nostro contenuto gratuito settimanale, quindi buon studio e buona settimana di trading.